Buonasera e ben ritrovati con Tadai, il vostro magazine, ogni giorno vi teniamo compagnia sempre con un carnet ricchissimo di argomenti e noi ci arricchiamo sempre in qualche modo, oggi è giovedì e dunque ampio spazio alle nostre rubriche, vecchie sane abitudini ma anche nuove e novissime collaudate proprio giovedì scorso, ma da oggi ufficialmente partirà una nuova, interessantissima rubrica per tutti voi, Django Famiglia 2.0, quindi un altro motivo in più per stare incollati davanti alla tv e capire come funzionano queste nuove famiglie, lo scopriremo naturalmente solo Tadando e adesso al via con la presentazione dei nostri numerosissimi ospiti anche di quest'oggi, A cominciare dal nostro salottino dove diamo il ben ritrovato a un caro amico di Tadà, Simone Martini dell'ANTA, Associazione Nazionale Tumori, per parlare di due importantissimi eventi, a brevissimo il 29 gennaio e poi anche il giorno degli innamorati il 14 febbraio con tante sorprese. Buonasera Simone, benvenuto nello studio di Tadà. Buonasera a tutti. Alla mia destra una schiera di bellissime e bravissime ballerine di Danza del Ventre, adesso presenterò solo le maestre, poi faremo un bellissimo escursus anche sulle altre partecipanti, ma intanto per Agne Danza abbiamo Agnese Magogno, Elisa degli Innocenti e Sara Magherini e tutte queste altre quattro bellissime. Buonasera e benvenute a tutte quante nello studio di Tadà, di Tadà, oh, pardon, mi sono inceppata. Alla mia sinistra un nuovo angolo, una nuova rubrica, come detto all'inizio della nostra trasmissione, trattasi appunto di Django Famiglia 2.0 E allora cominciamo, perché è una schiera anche questa naturalmente, alla mia sinistra il ben ritrovata Giuditta Pasotto. Buonasera. Che oggi ci ha portato l'avvocato Vincenzo Todaro. Buonasera. E Gianluca Fani, che in realtà è responsabile della Casa dei Babbi, ma oggi qui è venuto a portare la sua testimonianza dell'argomento che tratteremo. Buonasera. Separazione consensuale, nello specifico quella con negoziazione assistita. Che cos'è? Lo scopriremo solo dadando, naturalmente con l'aiuto di Django, perché se no non eravamo qui. Che si spalanchino le porte della mia coloratissima cucina, largo ai giovani, alle novità, anche ai nostri fornelli. Benvenuto a Matteo Vannini. Ciao Matteo. Ciao, buonasera. E allora, con che cosa ci delizierai quest'oggi, nella terza e ultima parte di Tadà? Oggi faremo un tagliolino scaleno. Cioè? Cioè abbiamo ripreso tre territori e li abbiamo uniti in un unico piatto. Ah, bello. Un tagliolino cosmopolita. Evviva la sagra del carboidrato complesso. Benissimo. Allora, questa è la formazione, come si fa per le squadre di calcio, della prima parte di Tadà. Perciò iniziamo sfogliando proprio la prima pagina, quella dedicata alla nostra nuova rubrica Django e Famiglia 2.0. Allora, la redazione di Django, che è sempre molto attiva, che cosa ha fatto? È andata a intervistare l'avvocato Francesca Zadnik del Foro di Genova, proprio in virtù del nostro argomento, la separazione consensuale negoziazione assistita. Sentiamo l'intervista e poi torniamo qua in studio. Ciao a tutti, mi chiamo Francesca Zadnik, sono un avvocato e mi occupo di diritto di famiglia. La negoziazione assistita è uno strumento per separarsi e divorziare in modo più rapido, in modo più economico. Ed è una metodologia che è assolutamente prevista dalla legge ed è utilizzata proprio per raggiungere lo stesso tipo di validità che ha una sentenza fatta in tribunale da un giudice per la separazione e per il divorzio. Presuppone ovviamente una volontà delle parti di raggiungere un accordo senza esasperare il conflitto, senza esasperare la crisi. Raggiungere l'accordo in tempi più rapidi e con una maggiore trasparenza e correttezza nell'interesse dei figli prevede la presenza di due avvocati, uno per parte, e prevede un invito formale ad aderire a questa procedura che deve avere un riscontro entro i 30 giorni dalla ricezione. Nel momento in cui ci sarà l'accordo sulla convenzione si andrà a sottoscrivere la negoziazione assistita vera e propria. Non si dovrà andare in tribunale, la si potrà fare negli studi degli avvocati o in un altro luogo neutrale. Gli avvocati devono comunicarlo entro dieci giorni alla procura della Repubblica presso il tribunale competente che effettuerà un controllo formale sull'accordo. Telematicamente, nell'arco di una settimana, noi abbiamo il provvedimento sottoscritto e autorizzato o con un nulla osta. Voi avrete la vostra sentenza fatta su misura e sarete separati o divorziati. Ringraziamo naturalmente l'avvocato Znadic per quelle che sono le sue informazioni certe e precise. Da neofita dell'argomento, mi sembra di capire, Giuditta, che questa tipologia di accordo in fase di separazione, negoziazione assistita, lo ripetiamo, tolga tutta una serie di ansie anche molto inutili in una situazione già di per sé stessa non molto felice, comunque sia. Esatto. Uno dei problemi più grossi durante la separazione e l'attesa dell'omologa del giudice è proprio la tensione che si crea fra i genitori generalmente nell'attesa di questa omologa dove bisogna ovviamente rispettare comunque gli accordi che ancora non sono stati, diciamo, ufficializzati ma in questo periodo che è variabile, a volte anche anni perché ci sono sempre i famosi imprevisti si creano proprio degli attriti nella coppia che spesso vanno a deteriorare il rapporto. In più dipende anche molto dalla tipologia di avvocato a cui uno si affida perché ovviamente la negoziazione prevede un dialogo assolutamente non bellico, no? Quindi si mira a trovare un accordo consensuale in maniera morbida, diciamo. O più dolore possibile, no? E quando ci sono i figli di mezzo è importantissimo. È proprio questo uno dei motivi per cui ci tenevamo in questa prima puntata a portare subito questa informazione a casa per dar modo alle persone che magari si trovano ad affrontare una separazione di venire a conoscenza di questa tipologia di separazione. E ora l'avvocato Todaro spiegherà nel dettaglio come accedere a questa cosa. Ci illumini avvocato perché così almeno le abbiamo fatte tutte, chiosiamo proprio su questo metodo che giustamente diceva Giuditta non è poi così conosciuto. No, è anche molto giovane, vero? Sì, no, come ha già detto la collega di Genova nel video e anche Giuditta. E sì, dal 2014, una legge piuttosto recente, c'è la possibilità appunto di esperire come strumento appunto la negoziazione assistita, uno strumento stragiudiziale. Cosa significa appunto non bisogna andare dal giudice o dal tribunale e con la negoziazione assistita i coniugi possono separarsi, divorziare e anche rivedere, modificare gli accordi della separazione e del divorzio. Addirittura. Sì, è importante anche questo aspetto. Ci sono dei requisiti ovviamente abbastanza importanti. Prima di tutto ci deve essere la volontà delle parti come appunto diceva la collega di Genova. Poi altro aspetto fondamentale che la legge stigmatizza è che ciascun coniuge deve essere assistito da un avvocato. Ecco, non si può prescindere. Esatto, non è possibile che i coniugi siano assistiti soltanto da un avvocato. Non ci sono altre preclusioni, cioè possono espedire la negoziazione assistita sia i coniugi che non hanno figli, ma anche i coniugi che hanno figli minori, oppure maggiorerni che hanno dei grossi handicap, quindi soggetti socialmente deboli. Oppure soggetti maggiorenni che si sa appunto anche in questo periodo non sono economicamente autosufficienti. Quindi questo è un aspetto molto importante che andremo ad analizzare. E poi ovviamente anche coloro che hanno figli maggiorenni. Allora, per passare rapidamente un po' come funziona questo strumento della negoziazione assistita, semplicemente l'avvocato di uno dei due coniugi invita l'altro coniuge a stipulare una convenzione per questa negoziazione assistita. Nella convenzione appunto i coniugi con i rispettivi avvocati devono cooperare. La legge dice, utilizza proprio questo termine, cooperare, cosa che molto spesso manca in queste situazioni, non soltanto in ambito familiare ma in generale. Ecco, la cooperazione delle persone, cioè ritorna in auge questo aspetto, cioè la cooperazione, il dialogo che molto spesso si interrompe soprattutto nell'ambito del diritto. Una collaborazione, un aspetto collaborativo. Cioè le parti diventano protagonisti, scusi se l'ho interrotta, le parti, i coniugi diventano protagonisti, cosa che magari anche una separazione consensuale non sempre è. Ma non per gli emeriti del giudice, non me ne vogliono. L'aspetto anche molto importante è che l'avvocato deve agire lealmente, gli avvocati. E proprio per questo le informazioni che vengono effettuate, che vengono detti durante questa fase, rimangono totalmente riservate. Cioè non possono essere utilizzate anche in altri procedimenti. In giudizio, eventuale, futuro. Sì, ma anche collegati per lo stesso oggetto. E lo stesso avvocato, tra l'altro, non ha l'obbligo di segreto professionale su quanto riferito in questa fase. In questa particolare fase che ho detto, i coniugi insieme agli avvocati si devono dare un termine non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi per stipulare quello che sarà poi l'accordo vero e proprio della separazione o del divorzio, oppure per la modifica delle condizioni. Dopodiché in questo lasso di tempo le parti si incontrano per stipulare quello che è poi di fatto l'accordo. Cioè quindi le disposizioni personali e patrimoniali tra i vari coniugi e anche, ecco questo è l'aspetto molto importante, è che io caldeggio appunto le persone anche quando si effettua la negoziazione assistita, un aspetto molto importante per i figli minori oppure quei soggetti che ho detto prima. Certo, socialmente deboli. Sì, esatto. Devono essere in maniera molto accurata e dettagliata, deve essere stabilita come i coniugi intendono prendersi cura dal punto di vista patrimoniale e personale di questi soggetti. Questo per una trasparenza proprio del rapporto di tutta questa fase che semplifica la separazione consensuale. Dopo continuiamo avvocato ad approfondire questi aspetti e soprattutto i vantaggi che ci sono per tutti gli agenti all'interno di questa tipologia di separazione che potrebbe anche essere definita separazione indolore in qualche misura. Grazie, grazie per il momento. Mi sposto cambiando completamente argomento. Raggiungo tutta questa beltà, ma la vogliamo dire che qui c'è la beltà anche di giovedì, di solito si parla lunedì della beltade, ma la beltade c'è anche oggi. Vi voglio dire, con queste meravigliose... Allora, prendiamo questo microfono, bene che c'è, lo vedo acceso, quindi ci siamo, e iniziamo a parlare con Agnese, dal quale appunto prende il nome ovviamente la scuola in questione, che non è una scuola, pardon, è più un progetto all'interno di una scuola, all'interno della scuola Pablo Tango Firenze. Esatto. Il progetto si chiama Agne Danza. E allora, ci racconti qualcosa di questo progetto così colorato e meraviglioso, lo vedete qui, è strinsecato, eh, con queste meraviglie? Certo, allora, questo progetto nasce un po' da quella che per me è iniziata come una passione e dal desiderio di trasmettere questa forma d'arte, non solo da un punto di vista tecnico e culturale, ma anche in un senso globale per la donna, perché è una danza prevalentemente femminile e particolarmente importante per la donna, anche solo se andiamo a vedere i movimenti che ci sono tipici di questa danza. Molto sensuale, molto... Sì, esattamente, ma anche una cosa importante di questa danza è che permette in maniera indiretta di entrare a contatto con se stesse e di valorizzare le proprie qualità e di accettarsi, anche accettare i propri limiti, accettare quello che si è. È una danza adatta ad ogni età e corporatura, questo è importante dirlo. Questo è importante perché qui, nella danza del ventre, non esistono taglie, non è richiesto nessun physique du role particolare, ma forse, e ora sentiamo anche, per esempio, Elisa, quello che è richiesto è la voglia di mettersi in gioco, di tirar fuori questa femmina che è nascosta in ognuna di noi. Esatto, la cosa fondamentale, prima di tutto, è la passione verso la danza e noi viviamo la danza in maniera molto tranquilla, rispettando, prima di tutto, il nostro corpo e i nostri limiti ed è una danza molto sensuale e molto femminile ed è per questo che ogni donna può trovare il proprio modo di esprimersi attraverso di essa. E mi sembra, anzi, vi volevo dire che dopo c'è una sorpresa, dovevo stare zitta, però via, ve lo dirò. Quindi, aperta a tutti, meravigliosa e esaltatrice della femminilità, Sara, io so che tu, prima ti ho chiesto, ma uno quando può iniziare a provare? E lei mi ha detto subito, di un po'. Sì, allora, diciamo che non ci sono limitazioni, come abbiamo detto, è una danza adatta a tutte e soprattutto chi volesse iniziare subito a provare questa danza può presentarsi già direttamente stasera in via Barazzuoli 19, dove avviamo un nuovo corso Principianti e può venire a provare, la prova è assolutamente gratuita, può conoscerci, Agnese Magonio, Elisa degli Innocenti e me e approcciarsi a questo mondo. Meraviglioso, senti, aiutami, Sara, passa il microfono, come si chiamano? Io sono Alessia Boninsegni. Ciao Alessia, benvenuta, facciamo l'escursus. Maria Antonietta De Caro. Bene. Paola Mori. Violetta Giuca. Bene, con Violetta, Violetta a rosa, verso il rosa, insomma facciamo così la gradazione di colore, ci porta il microfono. Beh, insomma, insegnare a tutte queste ragazze deve essere una cosa molto bella e anche molto formativa per se stessi. È una bella soddisfazione vedere le allieve crescere, quelle che adesso sono insegnanti sono nate come allieve, sono dieci anni che ballano all'interno di Agni e Danza e quindi per me è un onore averle oggi come insegnanti e ringrazio tanto anche le allieve che oggi hanno deciso di condividere con noi questa bellissima opportunità. Io ringrazio voi, perché avete deciso tutte insieme di condividerle invece con me e con tutti gli amici e le amiche di Tadà e noi siamo contenti perché, non so se avete notato, ma sicuramente i nostri registri hanno fatto un bellissimo escurso sui loro volti. Guardate gli occhi di queste donne, sono veramente sorridenti, ci mettono pace, che bellezza. E vive, 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 grazie perché dopo continueranno a essere protagoniste, protagoniste insieme a Agni e Danza. Noi naturalmente ringraziamo anche la scuola Pablo Tango di Firenze che ogni tanto ci porta, ci fa viaggiare attorno al mondo rimanendo sempre qui nello studio di Tadà attraverso la magia della danza. Grazie, grazie ragazze, ci vediamo dopo, ci vediamo dopo, come si dice, si direbbe di Paolo in Frasca, invece io di panca, in poltrona, vado di qua e raggiungo nel nostro salottino Simone Martini. Simone, ben ritrovato. Oh Francesco. Voi fate tipo me a Tadà, a Lant, non vi fermate mai per uno scopo molto più importante di quello che è sicuramente il mio. Ricordiamo, prima di introdurre quelli che sono i prossimi eventi curati, organizzati a 360 gradi dall'Associazione Nazionale Tumori, quella che è l'attività di questa associazione che da ormai diversi anni regala speranza concreta ai malati oncologici e ai loro familiari con un sostegno veramente ormai a tutto campo. Esatto, la Fondazione Ant è nata 40 anni fa proprio per portare l'assistenza domiciliare oncologica gratuita nelle case di chi stava soffrendo. Come lo facciamo? Lo facciamo con un'equipe specializzata di medici, infermieri e psicologi che entrano in punta di piedi, come dico sempre io, nelle case di chi soffre per portare qualità, professionalità ma soprattutto anche solidarietà perché spesso le famiglie quando si trovano ad affrontare un momento difficile come quello del tumore hanno la paura di sentirsi abbandonati, di sentirsi soli. Quindi dobbiamo riuscire a portare anche molta umanità nelle case delle persone. E quindi questo è veramente importante, il fattore umano è quel fattore che non scade mai, che ci viene in ausilio tutte le volte che purtroppo può accadere una disgrazia come quella di una malattia, come quella appunto tumorale. Per fortuna che ci siete voi, per fortuna voi che donate speranza, nel senso appunto di non far sentire mai abbandonate queste persone che sono malate direttamente e anche tutti i componenti di quelli che è il nucleo familiare perché non soffre solo il malato ma soffre insieme a lui anche chi in maniera indiretta subisce la malattia. E allora, apposta per trovare i fondi, per sostenere Ante tutti i suoi progetti così ambiziosi ma così importanti, voi che siete sempre una cuscina di idee molto belle e coinvolgenti, avete pensato a due eventi. Iniziamo da quello più vicino in ordine temporale che avverrà il prossimo 29 gennaio in una location straordinaria e bellissima che è la Certosa di Firenze. Raccontiamo che cosa succederà e quelli che sono e che saranno i soggetti coinvolti nell'evento. Allora, intanto diciamo che appunto è un'iniziativa che si pone come obiettivo quella di raccogliere fondi per finanziare il nostro staff sanitario. Siamo arrivati quest'anno all'ottava edizione del Ballo delle Debuttanti, un progetto che è nato insieme alle Promesse Viola di ACF Fiorentina. È l'ottavo anno in cui da una parte accompagniamo le giovani ragazze dai 18, solitamente sui 17-18 anni, al passaggio nell'età matura e dall'altra parte i cavalieri della primavera della Fiorentina diventano i padetti di un tempo e accompagnano queste ragazze in questa meravigliosa serata. La serata è divisa in due parti. Una prima parte che è dedicata completamente agli ospiti, cioè a coloro che partecipano per guardare il ballo delle debuttanti. Quindi l'accoglienza, la cena e il momento di convivialità. Nella seconda parte della serata invece ci sarà il ballo vero e proprio dove appunto le 24 ragazze e 24 ragazze della Fiorentina si cimenteranno nei classici waltzer. La serata sarà aperta dalla fanfara dei carabinieri che ci suonerà l'inno nazionale e un paio di brani sempre sul tema del waltzer. Ospite d'onore della serata sarà la Marchesa Daniela Dezzicco d'Aragona. Per la seconda volta perché anche l'anno scorso fu ospite. Anche l'anno scorso ma è più di un anno che è il nostro ospite ormai. È un nostro affezionatissimo testimonial. Sarà con noi e recentemente è uscita dal Grande Fratello VIP. Spesso si sente dire che è il vincitore morale del Grande Fratello VIP perché è riuscita a gestire e a imporre la propria presenza anche da fuori dalla casa. Comunque sarà con noi quindi è un'occasione in più, è un motivo in più per venire alla Scertosa a vedere il ballo delle debuttanti. Speriamo e ci siamo dato l'obiettivo quest'anno di raccogliere circa 30.000 euro con questa iniziativa. È un progetto importante. E quindi mi raccomando accogliete con benevolenza e con partecipazione tutte quelle che sono poi le tantissime iniziative di Ant che fate durante tutto il corso dell'anno perché non ci sono naturalmente solo gli eventi e non si può sostenere solamente attraverso gli eventi tutte quelle che sono le numerose attività dell'associazione ma poi dopo ricorderemo anche il sito e le modalità di interazione proprio di partecipazione all'attività straordinaria di questa associazione che veramente ormai da tanto tempo aiuta il malato di tumore e tutta la sua famiglia sotto ogni profilo. Grazie Simone Martini. Ci vediamo dopo invece per parlare dell'altro evento quello del 14 febbraio nel Gioro degli Innamorati. Chissà che cosa vi siete inventati voi all'Ant io intanto a questo punto ritorno al centro del nostro studio per riaprire nuovamente la pagina dedicata alla nostra nuova rubrica in collaborazione naturalmente con Django di cui noi abbiamo la fondatrice Giuditta e che tutti sicuramente sapranno ma lo sanno tutti chi sei quindi insomma però la nostra rubrica Django Genitori 2.0 abbiamo detto prima che oggi tratta l'argomento della separazione consensuale nella fattispecie della negoziazione assistita quindi la separazione consensuale che abbiamo sentito prima grazie al nostro contributo grazie anche all'avvocato Otodaro consente di snellire notevolmente anche i tempi di una separazione che è sicuramente meno aggressiva sotto tutti i punti di vista o meno litigiosa di altre tipologie di separazioni io credo Giuditta visto che tu insomma hai molto a che fare con i cosiddetti genitori single quindi che vengono da una situazione di separazione che sia importante sentire la voce di chi questa esperienza veramente l'ha vissuta esattamente infatti generalmente quando spieghiamo qualcosa ci teniamo sempre a portare una testimonianza proprio perché magari uno dice sì ma non funziona hai visto magari non essendo tanto utilizzata anche all'interno dei nostri stessi utenti abbiamo provato a fare un sondaggio e pochissimi ne avevano usufruito ci abbiamo tenuto a portare una persona che si occupa proprio anche del sociale all'interno di Django e che quindi saprà spiegare al meglio come l'ha vissuta e che vantaggi gli ha portato avere una negoziazione assistita e quindi avere una separazione diciamo armonica e quindi voi giustamente ci avete portato oggi Gianluca Fani che è un ex marito un ex marito che ha usufruito di questa tipologia di separazione che adesso ci racconta la sua esperienza come ha gestito Allora io ho avuto la fortuna tre anni fa di fare la separazione assistita e è stata, la ripeto, una fortuna perché intanto levato tutti gli aspetti tecnici che abbiamo descritto finora bisogna sempre ricordarsi che quel momento è un momento molto particolare per due genitori in particolare un momento particolare perché insomma c'è una tensione molto grossa sai che quello che vai a fare ti condizionerà in qualche modo un pochino tutto l'aspetto del futuro tutta la vita però mi è piaciuta la negoziazione assistita tantissimo sono stato ben suggerito è stato bello perché abbiamo fatto due o tre incontri praticamente con gli avvocati questi incontri riguardavano essenzialmente due cose insomma un bene patrimoniale che c'era da suddividere e la gestione dei figli perché in quel momento che ti vai a separare un aspetto fondamentale è proprio che devi decidere insieme come organizzare la vita di due nuclei familiari che avverranno che è un momento un pochino particolare perché te vai a organizzare un po' la vita a formalizzare delle cose che sai che ti condizioneranno per tutta la vita Tu stai andando a corroborare con la tua esperienza quanto detto prima dall'avvocato Todaro che ci ha parlato proprio di cooperazioni ma questo è perfetto parlo un po' più della parte emotiva proprio perché è un momento molto particolare della vita ma noi alla nostra rubrica vi lasciamo spazio perché così diamo spazio alla parte emotiva alla parte organizzativa e poi alla parte invece anche istituzionale sì sì è stato importante fare questi due o tre incontri è stato importante andare a firmare una separazione che nel mio caso prevedeva l'affido condiviso al 50% di questi due bimbi dividendosi fine settimana le giornate un po' tutta la logistica e una volta che abbiamo filmato sapevamo che nel giro di pochi giorni questo atto veniva ratificato in tribunale che non c'era un'attesa cinque o sei mesi d'attesa dove chiaramente succede fra due genitori che si separano che non tutto i primi mesi può funzionare alla lettera però una volta che l'abbiamo filmato abbiamo cercato di adattarsi di venire incontro alle esigenze dell'altro genitore e tutto questo atteggiamento che lì per lì non te ne rendi conto perché stai vivendo il fallimento di una vita però alla lunga ti porta a grandi risultati nel mio caso non c'è stato bisogno di rivedere l'accordo anche con i figli che crescono e cambiano le esigenze è stato un buon accordo e quando abbiamo bisogno di risettare un pochino le cose fra genitori perché le esigenze dei figli possono cambiare immaginiamoci una separazione con un figlio di tre anni quando il figlio va in liceo le esigenze possono essere diverse certo cambiano di anno in anno però partendo con una buona separazione si riesce a trovare sempre degli equilibri devo dire che questo aspetto della separazione consensuale nella forma della negoziazione assistita presuppone anche un'intelligenza dei due ormai prossimi diciamo così ex coniugi perché come ci ha spiegato appunto Gianluca avete potuto vedere dalla sua esperienza non solo vengono snelliti le tempistiche e le modalità ma la serenità che dovrebbe rimanere anche in questo tipologia di famiglia 2.0 perché può essere una tipologia di famiglia anche questa dona serenità a tutti cioè ai figli agli ex coniugi e permette di vivere diciamo in maniera più serena quello che poi alla fine è uno sconvolgimento certo Francesca ti volevo dire una cosa finisci pure nel senso può capitare di dover andare davanti al giudice perché non troviamo proprio un accordo e giustamente c'è un giudice che ce lo trova per noi però se si può evitare anche la tensione di passare una giornata in tribunale ma perché no insomma l'ansia di cui prima parlava Giuditta ne abbiamo parlato con lei ti ringrazio per la tua testimonianza perché è davvero importante magari ci sono tanti amici e tante amiche a casa che non sapevano e ora grazie a voi sanno non è finita qui perché dopo andiamo invece sull'istituzionale sul giuridico parlando degli aspetti positivi ancora con l'avvocato Todaro io però adesso mi sposto un attimo in cucina vado a trovare il mio chef una premiere oggi abbiamo di Matteo Vannini a Ciborda perché se adesso casco che succederà mai piatta da allora caro benvenuto ti do anche i tuoi bacini che sono ben auguranti mentre tu racconti qualcosa guardando lì cioè guardando dritto negli occhi i nostri amici e le nostre amiche a casa io ti preparo un bel caffè e tu racconti come ti è venuta l'idea di presentare questo tagliolino cosmopolita vai allora oggi abbiamo questo tagliolino scaleno perché scaleno? perché è un triangolo di territori con i nostri ingredienti andremo in Sicilia con gli agrumi appunto utilizzeremo gli agrumi di Sicilia dal limone al mandarino all'arancia poi passeremo per la Francia con un vino francese leggermente liporoso che si abbina bene agli agrumi e concludiamo con la Toscana che è colui che andrà a impiattare il piatto che sono io e quindi ho voluto personalizzare questa ricetta ce l'hanno voluto affilare così in corner va bene allora qui c'è il caffè qui c'è lo zucchero se lo preferisci ti lascio rilassare ma non troppo e torno ad occuparmi dei miei altri ospiti ok? perfetto ci vediamo più tardi Matteo a tra poco allora 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 cari miei riapriamo la pagina dedicata alla danza la danza del ventre ma che bello ci fa sognare io penso subito a Aladdin ma è un problema mio perché è la mia cultura di Walt Disney fin da bambina però in realtà ha delle origini importanti le raccontiamo un po' Agnese mi metto qui a sedere accanto a te ma che origine ha? senti raccontami qualcosa sono così allora è un po' complesso l'argomento è molto lungo in breve possiamo dire che molti studiosi fanno risalire le origini di questa danza addirittura all'antica Mesopotamia dove si pensa fosse praticata come danza sacra propiziatoria della fertilità della terra e quindi della dea madre dai babilonesi proprio con furore esatto e quindi importante per la donna perché comunque la terra la donna il ventre a livello simbolico è fondamentale il centro della vita poi ovviamente la hullah e l'Egitto e da lì eventi storici e culturali hanno portato poi a quella che è la danza oggi la danza orientale comunque qui vedo che a femminilità siamo messe benissimo perciò cari miei allora quante volte vi allenate dipende diciamo voi insegnanti via poi si dice insegnanti ma poi dopo si dice anche quelle che potrebbero essere le neofite ok ci alleniamo sempre anche per esempio quando facciamo le faccende domestiche e ci spostiamo sai come sono contenti i mariti e i fidanzati vorrei fare ma guarda un po' secondo me qui la separazione consensuale non c'è è vero vero amici di Django non c'è sì sì lo so io ma ecco si può fare la negozia oppure oppure imparare esatto la danza del vento quindi bene bene contento il fidanzato parla al microfono sì contenti tutti sono contenti tutti io consiglio a tutti di provare perché appunto è un modo per entrare in contatto con se stesse con la propria femminilità e imparare a conoscersi e ad amarsi ad amarsi a scoprire magari dei lati del proprio corpo e a valorizzarsi a esprimere le proprie emozioni quindi ad esempio attraverso l'interpretazione di un brano si può esprimere un'emozione che può essere di gioia oppure di tristezza e quindi insomma consigliabile veramente a tutti consigliabile anche per mantenere un matrimonio diciamo così abbiamo visto bello attivo tutti a fare la danza del ventre da stasera si comincia alle 8 e un quarto ripetiamo ho 20 e 15 stasera allora stasera per chi volesse venire a conoscerci noi siamo del gruppo Agne Danza e ci appoggiamo anche all'associazione Pablo Tango di Firenze i nostri contatti li potete trovare sul sito www.agnedanza.com oppure sul sito www.pablotango.firenze.com e stasera iniziamo un nuovo corso principianti presso la scuola Area Danza alle 20 e 15 in via Barazzuoli 19 va bene quindi chi non sta nella pelle può venire direttamente stasera mariti state calmi perché voi non lo potete fare d'accordo? ecco potete solo guardare grazie ragazzi c'è qualcos'altro da dire? Elisa? Agnese vai vado? va va sì allora abbiamo anche altre due sedi cioè sono a Novoli uno è Renny e l'altro in via Baracca e l'altro è La Perla in via Forlanini ah quindi siete proprio lì via Forlanini vi ci mando la mia nonna quando esce dall'ospedale se poi ci va subito grazie grazie ragazzi ci vediamo dopo è pronte guarda lì vi immaginereste mai che cosa abbiamo preparato che cosa hanno preparato per voi torno di nuovo nel salottino perché abbiamo parlato del ballo per le debuttanti con le giovani promesse viola eh della CF Fiorentina che tutti conosciamo finalmente domenica riconincio il campionato siamo tutti contenti parentesi chiusa cura naturalmente l'organizzazione dell'antra associazione nazionale di tumori di cui poc'anzi abbiamo ricordato le numerose attività e le finalità ma non è finita qui perché sono veramente fuscina di eventi incredibili anche per il 14 febbraio che cosa succederà Simone? certo abbiamo detto dobbiamo essere una fuscina di idee perché noi ci finanziamo completamente da soli per tutta l'attività che portiamo ogni giorno nelle case di chi soffre allora il 14 febbraio abbiamo pensato in modo molto classico a una scena del cuore che non è una scena per innamorati ma una scena che va bene anche per gli innamorati va bene per chi si vuole bene ed è il cuore come simbolo di amore anche per l'amore che Ant mette ogni giorno in quello che fa altra iniziativa appunto come abbiamo detto di raccolta fondi presentata come il ballo delle debuttanti dalla nostra ormai coppia storica Stefano Baragli e Veronica Maffei che presentano tutti i nostri principali eventi di raccolta fondi a Firenze e durante la serata che è una bellissima scena che si svolgerà a Palazzo Borghese in Via Ghebellina sarà accompagnata da musica dal vivo e da tutta una serie di sorprese che non vogliamo svelare perché altrimenti non vogliamo svoleriamo troppo diciamo solo che sarà importante la partecipazione e il sostegno perché come giustamente sottolineava delegato Ant Simone Martini sono tutti eventi per autofinanziare appunto quella che è l'attività di Ant ricordiamo il sito esatto www.ant.it e soprattutto ricordiamo che per chi volesse partecipare sia al ballo delle debuttanti che alla scena del cuore del 14 febbraio può telefonare alla delegazione Ant di Firenze al numero 055 500 210 chiedere di Cristina Casamassimi che è l'organizzatrice di queste serate salutiamo Cristina e le ringraziamo naturalmente per la sua grande attività e la sua dedizione assolutamente e quindi questo è il modo più facile per partecipare ai nostri eventi come abbiamo detto prima e l'hai detto giustamente tu gli eventi sono una parte delle iniziative di raccolta fondi già in questi giorni sono nelle principali piazze i nostri volontari con i banchini e con gli agrumi della solidarietà che servono anche quelli a raccogliere i fondi necessari per finanziare il nostro staff sanitario grazie a Simone Martini e soprattutto grazie a Ant e alla sua bellissima e operosa attività grazie grazie torno al centro del nostro palco riapriamo nuovamente la rubrica dedicata a Django la nostra famiglia 2.0 avvocato Todaro ci illumini per completezza dell'informazione come si dice sugli aspetti positivi anche dal punto di vista giuridico della separazione consensuale negociazione assistita io mi volevo ricollegare appunto a quanto detto prima cioè per quanti istituti si possono fare come appunto la negoziazione assistita l'aspetto però importante anche le parti c'è anche l'intelligenza delle persone perché un ordinamento giuridico potrebbe fare qualsiasi istituto volto a ridurre il contenzioso e quant'altro però poi devono essere anche le parti ad essere intelligenti ad arrivare a quella che si è definita prima la cooperazione però arrivando agli aspetti positivi indubbiamente sono quelli di eliminare diciamo così troppi giudizi il nostro sistema ormai giudiziario è ingolfato se si può dire dai giudizi che non soltanto per quanto riguarda il diritto di famiglia ma tutti gli aspetti del diritto e inevitabilmente questo ha delle ripercussioni c'è i tempi anche per per questi giudizi di separazione o divorzio molto molto lunghe ed estenuate e faticosi poi sicuramente con la negoziazione assistita non ci sono quelle spese per quanto riguarda appunto i giudizi per le semplici spese per quanto riguarda il contributo unificato o quant'altro sono le spese per ristaurare semplicemente il giudizio l'altro aspetto che a me piace sottolineare e secondo me è quello più importante ma non soltanto la negoziazione assistita nell'ambra della separazione ma il nostro legislatore ha creato vari istituti per eliminare il contenzioso ma è proprio questo mette dal centro la persona perché per quanto tu possa andare da un giudice il giudice alla fine per quanto sia inicepibile è anche una sentenza cioè agisce secondo diritto e quindi molto spesso le persone quando si trovano in conflitto separazione ma anche altre questioni condominali interessi che sono intrinseche allo stesso sono magari diversi da quello che poi è l'effettivo diritto soggettivo esatto e quindi attraverso il dialogo l'installazione del dialogo come appunto nella negoziazione assistita ne ha beneficio le parti stesse e in questo caso anche i figli che è l'aspetto secondo me più importante ecco i figli prima di tutto quando si dice la loro serenità che poi se i figli sono sereni sono sereni anche i genitori e viceversa grazie perché abbiamo veramente fatto una bellissima opportunità abbiamo messo in luce un'opportunità per i nostri amici e le nostre amiche a casa che si trovano naturalmente a dover affrontare una separazione chissà che cosa ci proporranno la prossima settimana quelli di Django Famiglia 2.0 grazie a Giuditta perdono grazie all'avvocato Todaro e grazie anche a Gianluca per la tua esperienza insomma che ci fa sempre tanto piacere e ora siete pronti? perché ora c'è il balletto eh sì ve l'avevamo detto l'esibizione delle ballerine della danza del ventre Agne Danza quindi che vengano che prendano pure lo spazio che si meritano io mi metto comoda comoda sulla panca rossa me le guardo tutte d'un fiato a voi la scena care grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ma quanto siete belle quanto siete brave tutte quante voi mamma mia mi verrebbe voglia quasi di prendere un tè nel deserto eh come dire brave complimenti state qui con me non mi abbandonate in tutta questa beltà siamo in un are no siamo nello studio di Tata grazie perché siete bravissime ora capisco perché i mariti sono tutti contenti fidanzati contenti mamma mia un successone proprio eh allora che cosa abbiamo visto? un pezzo un pezzo di danza orientale sciarchi sciarchi perché ci sono diversi stili e questo è uno stile abbastanza che prende anche delle contaminazioni volendo di danza classica per l'incontro fra oriente e occidente e quindi è più adatto a uno spazio grande l'uso del velo tipico è integrante eh come si dice sì che belle che belle che brave una curiosità ma i costumi chi li fa? questi sono egiziani originali addirittura questi sono di manifattura egiziana sì e poi la danza del ventre a chilometro zero bellissimo alcuni dalla Sarte con il costo vari dalla Sarte però questi sono originali eh questi sono egiziani hai capito che viaggio eh che viaggio nell'oriente che vi abbiamo fatto fare oggi grazie ragazzi accomodatevi pure io intanto che vorrei tanto prendermi pure 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 andate che vorrei prendermi un tè del deserto non me lo posso prendere ma voi che potete fatevi il tè fatevi il caffè perché naturalmente Tadà continua e come se continua abbiamo ancora seconda e terza parte pensate un po' ci vediamo tra poco eh state lì non vi muovete eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Tadà come vi accorgerete tra pochissimo c'è stato un turn over completo dei nostri ospiti studio dunque nuovi argomenti andiamo subito con la presentazione dei nostri ospiti la giornata del giovedì è dedicata anche alla nostra rubrica che è una nostra vecchia consuetudine quella dell'angolo del cittadino il benvenuto dunque al collega della redazione Luca Renzoni con l'avvocato Eleonora Grifoni buonasera ciao buonasera affronterà l'argomento del sovraindebitamento sì buonasera benvenuti entrambi continuiamo alla mia destra Enrico Rinaldi maggiore gruppo Carabinieri Forestale Firenze con lui parleremo buonasera della sicurezza alimentare di quella che è l'attività proprio del gruppo dei Carabinieri Forestale Firenze quindi faremo un bel inciso su tutte queste che sono le loro attività alla mia sinistra invece benvenuto per la rubrica dedicata al favoloso mondo delle app che ci è d'aiuto in moltissimi in moltissimi casi oggi è qui con noi Marco Zingoni ciao Marco ben ritrovato anche a te e poi diamo il benvenuto a Maria Cristina Giglioli per fare un escurso un'immersione di cultura a tutto campo con la stagione teatrale del teatro del popolo di Castelfiorentino siamo in provincia di Arezzo in un luogo meraviglioso di Firenze ho sbagliato scusate siamo non so come mai è venuto a Arezzo non si sa vabbè così siamo in un luogo di cultura di tradizione ma anche di spettacoli e quindi faremo un bel escursus di nuovo nella nostra cucina c'è lui che è pronto alla sua premiere lo vedete già che è ansioso di iniziare ma ci vediamo una terza parte a Matteo e adesso invece sfogliamo la prima pagina della seconda parte del nostro Tadà e allora iniziamo subito da un servizio che riguarda l'attività del gruppo dei carabinieri forestali i carabinieri forestali si occupano nell'ambito del settore dell'agroalimentare di tracciabilità ed etichettatura l'attività dei carabinieri forestali è anche quella di sensibilizzare alla conoscenza dell'etichetta perché l'etichetta come carta di identità del prodotto consente di diventare dei consumatori consapevoli in un frantoio il controllo ha inizio con una verifica documentale della quantità di olive in entrata e dell'origine delle olive questo è un fattore molto importante perché la maggior parte delle truffe nel settore oleario riguarda proprio la classificazione di oli italiani con olive provenienti da altri paesi o addirittura con oli provenienti da altri paesi segue poi l'ispezione del processo di trasformazione che diciamo è atto a verificare che questo si svolga secondo la normativa vigente l'olio prodotto che deve essere compatibile per quantità con il quantitativo di olive in entrata all'interno del frantoio viene poi inviato presso i silos dove il produttore gli attribuisce un lotto di produzione prima di inviarlo alla fase di imbottigliamento qui l'attenzione del controllo si focalizza sulla tracciabilità del prodotto in quanto ci sono delle movimentazioni all'interno dell'azienda prima di seguirlo nella fase di imbottigliamento dove l'attenzione verrà catalizzata sulla etichetta in quanto è la vera e propria carta d'identità del nostro olio sullo scaffale non trovo solo olio italiano soprattutto quando ci possono essere stati in effetti delle criticità nella produzione stessa dell'olio di oliva possiamo trovare quindi dell'olio comunitario derivante quindi da olive comunitarie miscele di oli comunitari e non comunitari l'importante è che chiaramente ci sia scritto in etichetta perché questa l'origine dell'olio la provenienza è un carattere assolutamente obbligatorio quindi il consumatore nel momento in cui ha in mano la bottiglia può sapere che l'origine dell'olio e a quel punto decidere se vuole acquistarlo o meno facciamo controlli analitici e controlli lungo tutta la filiera tra l'altro noi abbiamo certificato il nostro sistema di controlli dal 2013 inoltre come cop abbiamo acquistato un naso elettronico un gastroomatografo di seconda generazione molto evoluto che ci può aiutare a individuare quelli che sono le sostanze volatili presenti nell'olio e a indicarne quindi la provenienza inoltre sul nuovo raccolto si fanno delle analisi molto specifiche perché vogliamo essere certi che quando si dichiara nuovo raccolto siano effettivamente le olive della campagna olearia in corso ebbene ringraziamo il contributo di sai cosa mangi questo prodotto della sinergia tra il gruppo Carabinieri Forestale Firenze e Unicop Firenze e abbiamo detto che qui con noi abbiamo Enrico Rinaldi che è maggiore del gruppo Carabinieri Forestale Firenze e proprio a lui chiediamo di che cosa si occupa il gruppo Carabinieri Forestale Firenze Buonasera Grazie Buonasera Il gruppo Carabinieri Forestale di Firenze la premessa dal primo gennaio 2017 il corpo forestale dello Stato è stato assorbito dall'arma dei carabinieri quelli che erano i compiti e le funzioni attribuite a questo corpo sono confluite nell'ambito dell'arma dei carabinieri tramite l'istituzione tra gli altri di un nuovo comparto di specialità questo comparto si occupa di tutela in ambito forestale ambientale ed agroalimentare il gruppo ne è una diramazione opera a livello provinciale e ha una competenza generalista nell'ambito delle materie demandate a quella che poi è la nostra una specialità i carabinieri forestali svolgono attività che spaziano dalla tutela del patrimonio agroforestale alla tutela dell'ambiente della biodiversità nel senso della vigilanza in aree naturali ma anche gestione ad esempio la riserva naturale biogenetica che è qui vicino Vallombrosa è sia sotto vigilanza e gestione diretta dei carabinieri forestali anche se sotto una diversa linea di comando poi ci occupiamo di sicurezza alimentare del consumatore con particolare riguardo a quelli che sono gli aspetti della qualità alimentare e della tutela del consumatore in termini di corretta informazione quindi da una parte abbiamo la salubrità e ci sono altri reparti dell'arma dedicati in assa ad esempio e poi c'è quest'aspetto della qualità che è ugualmente importante perché in ambito comunitario e nel trascorrere del tempo si è accresciuta sempre più questa esigenza di tutelare il consumatore attraverso informazione e trasparenza l'importanza proprio dell'etichetta della vericità della stessa che corrisponda poi alla realtà di quella che sono i fatti insomma di quello che è il prodotto ecco in quali ambiti merceologici voi operate? Allora anche in questo caso il sistema agroalimentare è cambiato cioè si è globalizzato la filiera si è allungata tantissimo e si è perso quello che era il contatto fra il consumatore e il produttore questo ha comportato un aumento dei rischi per il consumatore sia in termini di certezza della qualità di quello che acquista sia in termini di salubrità e igiene e sono poi aumentate appunto anche le richieste del consumatore che è sempre più consapevole e informato sugli alimenti quindi ci sono attività che si protraggono negli anni e sono rivolte costantemente a due che sono i punti cardine della tutela della qualità da un lato abbiamo la corretta etichettatura quindi etichetta conforme etichetta trasparente etichetta che non induca in errore il consumatore questi sono principi comunitari dall'altro abbiamo la rintracciabilità dell'alimento che da un lato esiste per ragioni di sicurezza io devo poter prontamente ritirare dal commercio un lotto di un determinato alimento che risulti pericoloso per la salute dall'altro è un importantissimo strumento per gli organi di controllo e vigilanza perché attraverso l'analisi della rintracciabilità spesso si scoprono delle pecche che portano poi ad accertare illecite a carattere non solo amministrativo ma anche penale in Toscana in particolar modo visto che siamo qui uno dei settori agroalimentari forse più importanti è quello della produzione olearia dell'olio quali si possono tracciare in questo quadro del settore dal vostro punto di vista quali ambiti quali settori si possono tracciare allora la Toscana è una regione particolarmente evocata alle produzioni di qualità denominazione d'origine DOPGP in questo ambito abbiamo l'olio l'olio ha un complesso normativo importante nel cui ambito è possibile anche trovare spazio per frodi nel settore alimentare noi svolgiamo attività di controllo sia nell'ambito della corretta attitettatura della rintracciabilità come dicevo sia nell'ambito del è collegato alla rintracciabilità c'è il trasporto quindi controlli su strada sono elevatissime le importazioni di olio e sono elevatissime anche le lavorazioni dell'olio che avvengono in Toscana l'Italia è il secondo produttore mondiale di olio però siamo anche principali consumatori ed esportatori del prodotto poi lavorato nel senso di miscelato imbottigliato condizionato e riesportato e per il fabbisogno dell'industria dell'olio che non sto parlando quindi dell'agricoltore che produce olio vergine o extravergine d'oliva ma dell'industria dell'olio insensolato l'80% dell'olio lavorato dall'industria olearia italiana è di importazione quindi non è italiano eccoci e quindi nell'ambito di tutta questa mobilitazione di olio via terra e via mare si annidano quelle possono essere delle frodi le frodi quelle più diciamo diffuse sono da un lato il produrre olio che poi viene commercializzato come extravergine di oliva quindi l'olio più pregiato dalle più elevate qualità anche organolettiche miscelando sì olio extravergine d'oliva ma miscelandolo con oli che extravergine d'oliva non sono spesso sono di qualità inferiore anche molto inferiore eventualmente sottopolendone a procedure chimiche è un ambito a rischio questo fortemente a rischio grazie maggiore ci vediamo dopo per continuare a parlare naturalmente dell'argomento affine a quello che avete capito è la sicurezza alimentare parliamo invece di app con Marco Zingoni che pensate sviluppatore app presso commit SRL ho detto bene? non ho sbagliato via allora due in particolare oggi che per chi ha il senso dell'orientamento pari a quello di un lombrico cieco cioè io sono importantissime una è City Mapper e l'altra è Waze si comincia da quale? City Mapper va City Mapper è un'app che praticamente permette di muoversi nelle varie città con i mezzi pubblici molto semplicemente per utilizzare il bus la tramvia in pratica dando un punto dove si vuole arrivare ti dà informazioni sui biglietti su quali mezzi prendere su quale linea da quale linea da quale parte prendere l'autobus lato sinistro lato destra anche eventuali ritardi scioperi quindi tutta una serie di informazioni che ti permettano di arrivare in orario fondamentalmente quindi è un gestione tempo trasporto un'ottimizzazione del gestione tempo trasporto pubblico si mica male è molto interessante soprattutto perché ora in Italia c'è solo a Milano e a Roma però per chi viaggia è attivo in tantissime capitali europee per esempio Firenze ancora non c'è Firenze ancora no cioè è utile soprattutto per posti dove uno non conosce il posto per esempio se uno va a Londra Barcellona Parigi quindi le grandi capitali europei diciamo così o ex tali come Londra formate la Brexit comunque hanno tutti l'accesso a questo siti city mapper Firenze ancora no operatevi magari piano piano sono i turisti ma anche a noi cittadini piano piano la seconda invece più forse conosciuta la seconda un po' più conosciuta è Waze Waze è un un navigatore social in pratica le persone che utilizzano Waze possano segnalare se ci sono dove sono rallentamenti quindi se c'è un un incidente se c'è una coda e soprattutto quello per cui viene utilizzato di più se ci sono autovelox quindi se si viaggiando vengono segnalati tutti i vari punti e quindi ti permette di mi fa fare l'orecchio al maggiore ha detto dell'autovelox se no dice colleghi degli altri più nulla noi si guarda Waze per vedere dove si deve andare per il traffico fondamentalmente bene punto e quindi è molto interessante perché è potente popolato dagli utenti che utilizzano un servizio e quindi hai informazioni in tempo reale su tutto sul traffico e ti permette di prendere la strada più veloce e di risparmiare tempo fatica e soprattutto evitare di perdersi nei meandri metropolitani e non come si dice grazie grazie a Marco Zingoni adesso la linea a Luca Renzoni nel nostro salottino per l'angolo del cittadino esattamente è fatta anche la rima l'angolo del cittadino che torna a ospitare un esponente di fedeli consumatori in questo caso l'avvocato Eleonora Grifoni per parlare di sovraindebitamento noi come sempre dobbiamo partire dall'oggetto cioè da raccontare che cos'è di cosa si parla quando si dice sovraindebitamento allora innanzitutto la legge sul sovraindebitamento è la legge salva suicidi così viene chiamata ed è una legge che interviene a modifica di norme che già esistevano norme anti usura e anti estorsione quindi già ci dà la misura di quella che era la volontà del legislatore del Parlamento nel momento in cui è andato a emanare questo provvedimento entra ovviamente con i piedi in quelle che sono le esigenze cittadine cioè le esigenze odierne cioè di salvaguardare quanto più possibile il soggetto non soltanto il consumatore ma il debitore in generale esatto infatti sono due tipi di procedure distinte che vanno a tutelare un soggetto che fino ad ora era sfornito di una tutela di composizione della crisi a differenza di quelle che erano le procedure fallimentari quindi si tratta di norme che si applicano nel momento in cui una persona che è fortemente esposta fortemente indebitata vuol tentare come dire di ricomporre la situazione esatto c'è un cortocircuito esatto perché parla di due procedure si tratta di due procedure diverse perché ce n'è una per il consumatore quindi per colui che si è indebitato non per la propria attività professionale ma proprio per i propri consumi perché spende troppo sì ovviamente faccio un esempio banale perché comprarrate la macchina comprarrate la lavatrice al mutuo sommando magari tutte queste esposizioni esatto allora diciamo che c'è un freno cioè c'è un freno a questa legge perché ovviamente non può essere per tutti non può essere un facile scamotage è una soluzione per per la crisi per il sovraindebitamento incolpevole quindi quello che deve essere dimostrato e quindi il piano deve essere veritevole finanziamenti mutui aperti e ha perso il lavoro esatto ora il passo più lungo della gamba volutamente più lungo della gamba ovviamente non è tutelato non è tutelato questo è uno dei requisiti che vengono verificati quindi appunto il piano del consumatore quindi il consumatore inteso in senso stretto anche se poi vedremo che c'è un'apertura anche da questo punto di vista verso altre figure un po' più diciamo a mezzo ma è un tipo di tutela che può riguardare invece anche la piccola impresa quindi l'impresa anche commerciale che non rientra nelle soglie di fallibilità quindi che non ha un grossissimo giro di affari anche in quel caso c'è la possibilità di ricorrere sempre al tribunale e di proporre ai propri creditori un piano di rientro diverso rispetto a quello che doveva essere quello iniziale e a quel punto quindi quando come dire si rientra nei parametri previsti per questi casi sia per il consumatore che per la piccola impresa in cosa consiste il supporto che anche l'associazione dà sì sì l'associazione per il tramite appunto della consulenza legale che io personalmente svolgo su Figline l'apporto è quello della predisposizione sia di quello che è il piano sia di quello che è l'accordo perché anzitutto è necessario fare una prima scrematura una prima verifica di quello che è il complesso debitorio penso anzitutto a Equitalia in cui spesso e volentieri rientra tra i grossi creditori in queste situazioni quindi è necessario verificare legittimità o meno appunto delle poste debitorie verificare se è intervenuta prescrizione verificare se invece che inserire necessariamente nel piano o nella proposta il debito convenga chiedere una rottamazione in questa fascia specifica una profilazione iniziale ma anche un apporto tecnico per quel che riguarda soprattutto la proposta del debitore perché è una proposta che si può articolare in tanti modi i tipi di debito possono essere diversi può avere diverse tipologie di creditori e quindi è necessario fare una proposta che sia soddisfacente per i creditori qualche esempio su questo lo facciamo nella seconda parte dell'intervista quando cerchiamo anche di capire insomma se convenga quando convenga oppure no aprire diciamo una procedura di questo genere più tardi ora Francesca io sono venuta qui a dare noia a Matteo Vannini che qui con questo profumino di agrumi ricetta particolarmente vitaminica vedo sì anche un po' colorata quindi per ricordare un po' a pensare l'estate nonostante appunto l'arancia sia un frutto prettamente invernale come mandarini grazie ci vediamo dopo a dopo tonico di sicuro perché con tutta questa vitamina C che cosa volete non si fa altro bene cambiamo completamente argomento parliamo di arte l'arte del teatro sublimata in questa stagione così ricca dal programma del teatro del popolo di Castel Fiorentino abbiamo qui Maria Cristina Giglioli che ora ci introduce un po' quella che è la storia la tradizione di questo bel teatro grazie buonasera il teatro del popolo è un teatro che viene da lontano nel 2017 ha compiuto 150 anni di vita con alterne vicende è sempre stato un punto di riferimento per tutta la comunità la comunità del nostro paese e non soltanto da 10 anni nel 2019 sono appunto 10 anni dalla sua riapertura ha visto una nuova vita dopo un importante lavoro di restauro ed è da subito tornato al centro e ha richiamato da subito l'attenzione e la frequentazione della nostra comunità quindi tante persone lo frequentano sia per vedere degli spettacoli culturali ma anche diventa per loro un momento di socialità importante quindi una proposta culturale che si associa a un momento significativo di vita comune ebbene ci sono vicinissimi tre spettacoli molto importanti tre spettacoli per tre sezioni si inizia da subito con domani domani sera raccontiamo che cosa accade domani sera fa parte della sezione della prosa del teatro più importante diciamo anche se questo è un balletto lo spellbound contemporary ballet mette in scena Rossini overture sono 150 anni nel 2018 erano 150 anni dalla morte di questo grande compositore e quindi c'è il tentativo diciamo di tradurre con la danza e con la dolcezza e delle movenze dei danzatori quello che era il genio musicale di questo grande importante compositore alle 21 domani sera naturalmente al teatro del popolo di Castelfiorentino poi il giorno dopo il 19 gennaio sì il 19 gennaio proprio perché il nostro cartellone è un cartellone articolato in tante sezioni dove trovano spazio davvero tante modalità espressive e ci fa piacere porre alla vostra attenzione che sabato 19 gennaio sempre alle ore 21 ci sarà nel cartellone dedicato al teatro civile uno spettacolo particolare è un progetto che da anni portiamo avanti con l'RSA dell'Empolese Valdelza dove gli ospiti gli anziani di queste strutture partecipano ad un coro insieme ai loro familiari agli operatori e anche insieme appunto a dei maestri professionisti e mettono in piedi uno spettacolo che si intitola Pinocchio bella cosa se anche lo zucchero fosse una medicina ed è questo momento in cui appunto persone anziane con qualche problema si mettono in gioco e realizzano uno spettacolo ma allora voi siete buoni come un lupo scherzo buono come un lupo è invece lo spettacolo di domenica 20 gennaio esatto domenica 20 gennaio siccome abbiamo molta attenzione alle nuove generazioni e ai bambini perché saranno i cittadini di domani e anche gli spettatori di domani per cui la domenica pomeriggio noi proponiamo degli spettacoli buono come un lupo uno spettacolo messo in scena da Giallo Mare minima al teatro alle ore 17 che si rivolge a bambini dai 4 ai 10 anni con i loro genitori un modo diverso di passare il tempo con i propri figli e secondo noi un modo importante per creare consapevolezza appartenenza e per far vedere un mondo diverso da quello che comunemente oggi frequentano anche i bimbi più piccoli parleremo di altri due importanti spettacoli nello secondo spazio dedicato a questo bel teatro del popolo a Castelfiorentino perché lo sapete una delle nostre crociate oltre a quelle del mangiare bene dello stare bene del trasmettervi quell'allegria e quella sana leggerezza che nella vita di ognuno fa bene e anche quella di promuovere la cultura e l'arte ma anche le informazioni soprattutto quella digitale con la nostra rubrica dedicata alle app e allora è arrivato lo Zingoni e in redazione ha detto io oggi vi presento Reddit e io ma che è Reddit? L'applicazione sostituisce il commercialista oppure che ti fa capire se il tuo conto in banca è rosso? No in verità è un'app che ti permette che è un aggregatore di notizie in pratica tipo me in pratica le persone possono pubblicare le notizie link a notizie link a foto o a video di Youtube e le altre persone gli altri utenti votano se una notizia è importante o comunque se una notizia piace o se una notizia diciamo è interessante e a questo modo praticamente accedendo alla home page dell'app di Reddit si ha una lista delle notizie più più importante o più di tendenza del momento quindi abbiamo le notizie divise anche per categoria quindi se uno è interessato al teatro alla politica alla cultura o a quello che vuole si ha una lista una sorta di portale a portata di smartphone certo infatti viene chiamato la front page di internet diciamo è chiamato a questo modo qui poi ce n'è un'altra oggi Google Rewards Google Rewards ricompensa? no ti dà una piccola ricompensa visto? in pratica è un'app di Google che ti permette rispondendo a dei piccoli sondaggi di guadagnare dagli 8 agli 80 centesimi in pratica ti restituiti da piccoli soldi per rispondere a dei sondaggi che ti vengano proposti giornalmente o settimanalmente in base a tuoi interessi e quindi non sono tanti soldi però alla fine dell'anno asomai ti possono permettere di avere una piccola piccolo gruzzolo diciamo e bravo il nostro Marco Zingoni per lo spazio dedicato alla rubrica delle app grazie torniamo invece adesso a parlare con Enrico Rinaldi maggiore gruppo Carabinieri Forestali Firenze della sicurezza alimentare quindi riapriamo nuovamente questa pagina facendo un bilancio proprio dell'anno appena trascorso e di quella che è l'attività 2018 del gruppo Carabinieri Forestali Firenze dunque l'attività del gruppo è in crescita e si sta diversificando molto da un lato abbiamo delle attività che vengono stimolate e programmate a livello nazionale quindi il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emana delle direttive e precisi obiettivi obiettivi che sono differenziati a livello regionale quindi in base a quelle che a livello nazionale sono ritenute le principali criticità a livello locale poi tutta un'attività di iniziativa sempre in base alle informazioni che riceviamo soprattutto anche a quella che è una caratteristica dell'Arma dei Carabinieri che è l'attività info-investigativa che non coinvolge soltanto i carabinieri forestali ma l'Arma nella sua interezza a livello territoriale ecco e questo ci fa piacere perché ci sentiamo sicuri come dire a tutto campo a 360 gradi ecco c'è una serie di consigli che voi potete dare comunque sia al consumatore parlavamo prima dell'olio come scegliere l'olio di che cosa si deve tener conto quando siamo davanti allo scaffale perché a me è sempre facile trovarsi di fronte allo scaffale è una schiera di bottiglie incredibili perciò quali i criteri che dobbiamo utilizzare e poi soprattutto come possiamo contattare il gruppo forestale Firenze Allora la prima cosa da tenere presente è la classificazione degli oli vergine di oliva spesso manca un'informazione di base che l'olio extravergine di oliva e l'olio vergine di oliva così come anche l'olio lampante però lo considererei a parte perché è un olio che non è edibile tal quale non può essere commercializzato come alimento queste tre tipologie di olio sono definite sulla base delle caratteristiche analitiche ed organolettiche molto diverse e questa classificazione ne differenzia in maniera significativa la qualità chiaramente l'extravergine di oliva è quello dalla più bassa acidità al maggior contenuto in polifenoli eccetera eccetera e poi è importante la distinzione fra gli oli vergine di oliva quindi extravergine e vergine e l'olio di oliva la differenza fondamentale è che mentre l'olio gli oli vergine di oliva sono prodotti dell'agricoltura l'olio di oliva è un prodotto dell'industria polearia e è composto da olio raffinato quindi che subisce un processo chimico industriale con un'aggiunta di una percentuale in realtà indefinita dal punto di vista normativo di oli vergini e il processo e il trattamento chimico che subisce gli fa perdere gran parte di quelle che sono le caratteristiche anche organolettiche significative quindi la prima cosa è sapere che un extravergine di oliva e un olio di oliva sono l'uno un prodotto dell'agricoltura l'altro un prodotto dell'industria olearia poi si orienterà liberamente il consumatore la seconda cosa è il prezzo quando si trovano sugli scaffali olio extravergine di oliva il cui prezzo al dettaglio è il medesimo del prezzo dell'olio extravergine di oliva all'ingrosso ancora prima di essere imbottigliato quanto meno bisogna fare delle riflessioni su questo aspetto e se si cerca la qualità o la certezza di quello che si compra orientarsi su prodotti da costo maggiore grazie Maggiore per contattarvi 112 1515 o direttamente ai numeri telefonici del reparto grazie grazie al Maggiore grazie naturalmente al gruppo Carabinieri Forestali Firenze è unico per Firenze con il quale abbiamo ingaggiato tutti quanti insieme una bella chiosa sulla sicurezza alimentare non ce lo dimentichiamo mai adesso invece chiudiamo l'escursus sulla stagione teatrale del Teatro del Popolo di Castelfiorentino con due spettacoli eh Maria Cristina sì ancora due appuntamenti davvero importanti uno è quello del 24 di gennaio sempre alle ore 21 con Giorgio Scaramuzzino e Razza di Italiani uno spettacolo importante che parla di un periodo buio della nostra storia le leggi le leggi razziali in Italia spettacolo che poi noi riproponiamo in mattinè il giorno successivo per le scuole proprio perché è un tema eh del quale è importante parlare con i ragazzi e con le nuove generazioni e poi ancora il primo febbraio invece Paolo Rossi con uno spettacolo davvero esilarante come sono sempre i suoi spettacoli il re anarchico e fuori legge di Versailles il primo di febbraio sempre al Teatro del Popolo di Castelfiorentino una satira molto pungente come quella appunto di Paolo Rossi per vedere tutto il programma c'è un sito no? esattamente c'è un sito www.teatrocastelfiorentino.it lì ci sono tutte le informazioni gli orari la possibilità di acquistare biglietti costi e quant'altro costi e tutto grazie a Maria Cristina grazie davvero per questo bel escursus culturale adesso la linea va a Luca Renzoni per l'angolo del cittadino con l'avvocato Eleonora Grifoni di Feder Consumatori torniamo a parlare dei casi di sovraindebitamento e di quello che fa un'associazione dei consumatori come Feder Consumatori in questo caso per dare assistenza legale in questo caso applicando appunto le normative previste alla legge per chi è particolarmente esposto con i debiti incolpevoli diciamo così legati soprattutto a situazioni di crisi abbiamo detto prima approccio profilare da un certo punto di vista il debito e il tipo di debito facciamo il caso classico se ce n'è uno che cosa succede dopo in che modo si cerca di risolvere la situazione allora appunto facciamo una prima profilazione per quanto riguarda soprattutto l'imprenditore quindi il soggetto che ha un'attività commerciale la situazione è più complessa è più complessa e sono più ampie anche le ovviamente le soluzioni che si possono prospettare quindi vari tipi di risoluzione che si vada dalla dilazione allo stralcio ma anche alla prospettazione di trattamenti differenziati in base ai creditori che un soggetto ha per cui penso alle banche che spesso e volentieri possono sostenere anche rateizzazioni più dilazionate nel tempo penso che un'impresa abbia anche invece dei fornitori con i quali ha un debito i quali invece preferiscono un pagamento più rapido magari anche contratto quindi parziale rispetto al debito effettivo la procedura di sovraindebitamento permettono anche questo quindi è necessario un apporto tecnico per condurre appunto questo piano dal momento che l'obiettivo è ripianare un debito verrebbe da dire quando io ho la possibilità legalmente di accedere a questo tipo di benefici la conviene sempre allora è una valutazione una generalizzazione è sempre difficile possiamo dire questo il sovraindebitamento sono delle procedure che attivano attivano un tribunale attivano un organismo di composizione della crisi e dei professionisti quindi hanno un costo diciamo che sono convenienti nel caso in cui l'indebitamento sia veramente grave se pensiamo al piccolo finanziamento fin domestic mi viene da dire che le soluzioni sono altre vi sono altre soluzioni prospettabili più snelle più rapide chi si rendesse conto in realtà di avere a che fare con ben altro debito e con la consapevolezza che non dipende dalla sua come dire propensione alla spesa ma in una situazione di crisi appunto di cui ha sofferto in che modo può attivare può rivolgersi all'associazione attivando questo tipo di procedura cosa deve chiedere e dove allora la Feder Consumatori appunto sede a Firenze su Figlina abbiamo lo sportello lo sportello in cui io sono il consulente legale attualmente quindi l'avvocato della Feder Consumatori e abbiamo lo sportello il giovedì dalle 3 alle 6 del pomeriggio e basta presentare il problema ovviamente immagino grazie per esserci venuta a spiegare appunto questa cosa molto importante anche alla luce insomma della situazione economica con la crisi che si è trascinata per anni che ancora è tutt'altro che finita Francesca francesca torniamo da te riapriamo questa volta non è una fiction per la terza volta la nostra rubrica dedicata alle app con l'analisi di altre due split wise split wise sì split dividere per dividere si dice split anche quando uno si separa in inglese è un'app praticamente che serve per dividere le spese fra un membro di un gruppo pensiamo per esempio a un viaggio o a un conquilini molto semplicemente ogni persona inserisce in questa app quanto ha speso per esempio se vivo con dei conquilini io posso mettere quanto speso per l'affitto mentre un altro fa la spesa una volta l'ultimo paga una bolletta e l'app ti dice esattamente quanti soldi devi dare e quanti devi ricevere dagli altri membri del gruppo è molto utile anche per esempio all'interno di un viaggio se uno fa un viaggio certo siamo in gruppo dice aspetta un attimo si divide tutto si divide e quindi non sta tutte le volte a decidere una app per dividere alla romana per dividere alla romana poi c'è un'altra Revolut Revolut che è? Revolut è un'app collegata a una carta prepagata ah una carta di credito praticamente una specie di carta di credito sì è molto importante soprattutto per chi viaggia è molto interessante per chi viaggia perché si apre in modo molto veloce e immediato pagando mi sembra qualcosa come 6 euro ti arriva a casa e quando uno viaggia soprattutto in paesi dove c'è bisogno di un cambio di cambiare i soldi il cambio è praticamente a costo zero e ti permette anche l'app di tenere traccia di tutto quello che hai spesso e come anche hai spesso soldi quindi ti dice quanto hai spesso i ristoranti quanto hai spesso in biglietti o quanto hai spesso nelle varie nelle tue spese quotidiane e quindi ti permette di tenere tracce e quindi capire anche come spendi quindi magari darsi una calmata in caso appunto di spesa eccessiva grazie grazie davvero Marco per tutto questo bell'escursus avrò da fare stasera sull'App Store come dire molto da fare ma una app per spendere meno non c'è? quella mi sa che è un comportamento tenere il portafoglio a casa come si dice con pochi si e con la carta di credito come faccio io che mi autopunisco e la carta di credito la lascio a casa dice vai fuori si aspetta però la carta di credito la lascio a casa per non incorrere nella shopping mania come si dice invece invece bisognerebbe essere sempre ingordi di cultura anche attraverso il teatro è meraviglioso metodo di trasmissione di cultura ma anche di immersione nella cultura stessa abbiamo visto la ricca ricchissima stagione di questo teatro del popolo Castelfiorentino però non è che abbiamo detto tutti gli spettacoli è vero? no assolutamente no abbiamo ancora tantissimi spettacoli in cartellone di prosa di musica delle sezioni del teatro civile fra musica e parole fino al 12 maggio noi proponiamo momenti importanti proponiamo serate nelle quali possiamo ricevere quelle emozioni uniche che solo il teatro può darci ecco insomma il teatro davvero è un'esperienza per i più grandi e per i più piccoli questo è importante il teatro è una di quelle cose che non ha età non ha età nemmeno avere un comportamento consapevole a tavola e consapevole a tavola presuppone una scelta altresì consapevole e sicura di quello che andiamo a mangiare oggi con Tadà abbiamo aperto anche questa importante chiosa sulla sicurezza alimentare l'abbiamo fatto grazie al gruppo forestale Firenze dell'arma dei carabinieri l'abbiamo fatto grazie a Unicop e lo facciamo avendo acquisito generalmente al di là di tutto quello che ci siamo raccontati oggi grazie al maggiore qui presente che la lettura delle etichette è fondamentale è vero o no? dovrebbe fare un corso nelle scuole nelle scuole nelle sezioni cop perché secondo me lì troviamo pane per i nostri denti come si dice nell'imparare a leggere le etichette e a riconoscerle anche perché qualche volta potrebbero essere farlocche non certo in punti vendita insomma ben controllati come quelli di Unicop ma magari se non siamo se siamo da qualche parte dove un punto vendita cop non c'è in qualche paesello così impariamo a controllare l'etichetta a vedere quella che è l'origine di ciò che andiamo a mangiare a cucinare eccetera 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 grazie maggiore perché abbiamo capito che in caso di dubbio si può chiamare anche voi pensate un po' già hanno un sacco da fare ma loro si preoccupano anche della nostra sicurezza alimentare così siamo tutti più sicuri più belli ma soprattutto più sani perché si mangia meglio detto questo ho finito basta grazie anche all'angolo del cittadino tutte le rubriche che ci hanno accompagnato in questa prima e seconda parte di Tadà e adesso che si fa ci si rilassa ma che no si va a cucinare è certo con Matteo Vannini e la sua premiere qui nella cucina di Tadà tagliolino scaleno lo scoprirete solo Tadando ci vediamo tra poco iscriviti al canale Grazie a tutti.